Il 29 aprile 2012 si ritirano i pettorari, Salento Turro, Terzo Correre Galatina. Sergio Nobile è alla distribuzione del zacchetto, è cambiata qualche cosa quest'anno? Sì, abbiamo messo del vino, tarallini, olive, abbiamo anche integratori. Vediamo, vediamo, apriamo un sacchetto per cortesia. Cioè tutti gli iscritti stanno ricevendo? Sì, sì, un pacco in gara, tutti gli iscritti stanno ricevendo. Vediamo, spiammi. Una bottiglietta di acqua. E questo sostituisce la frutta finale? No, no, poi abbiamo anche l'istituto finale della frutta, pasticcini, dolci fatti in casa da tutte le mogli, acqua, sali minerali, che si stanno anche rispondendo le sali minerali. Quest'anno ci sono 632 iscritti? Sì, 632 iscritti. E devono però ancora arrivare pochissimi, insomma, mi sembra. No, ci siamo quasi tutti, ci siamo, ci siamo quasi tutti, perché c'è gente che è da fuori, fuori provincia. Siamo quasi pronti allora? Sì, siamo quasi pronti, alle 9 e mezza. Andiamo alla partenza allora? Sì, alle 9 e mezza. Buon lavoro a te che oggi non corri allora. No, oggi no, oggi sto correndo. Presidente e presidentessa, come sta andando l'organizzazione? Sta andando alla grande, alla grande. Meglio di così, un'invasione di atleti e di festa. Però vi costringe a stare fermi oggi, non correrete. Non si può fare tutto, ma già avere la grande soddisfazione di questa partecipazione così numerosa, ricordo assoluto per le gare nel Salento, è veramente qualcosa di straordinario per noi organizzatori e per Galatina intera. Perfetto, buon lavoro a loro. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Ciao. Lei è uno degli sponsor, vero? No, no. No? Lei è uno degli stronzo. Lei è uno degli stronzo. Dietro di te si corre. Tu sei fermo e hai abbracciato due ragazze. È meglio... Beh, sto meglio così invece di correre. Correrò la prossima settimana. Tra poco correrai però. Tra poco correrò. Seguirai questa gara o no? Seguirò questa gara ma sto già in corsa da pericchio tempo. Loro si stanno allenando, io sono già super allenato. Ma l'ultima settimana è questa di corsa però. Faremo la corsa finale. È la settimana dei colpi bassi mi pare. Oggi non ne vogliamo parlare. No, 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 oggi niente sgambetti perché bisogna correre tranquilli sul piano, quindi stiamo tranquilli. Ti vedo bello e rilassato. Voglio vederti fra dieci chilometri però, sai? No, no, fra dieci giorni sarebbe fortuna. Non fra dieci chilometri. Fra dieci giorni è bisogno di venire. Baratta e dieci chilometri con i cinque giorni che mancano. Com'è il fatto? Secondo me baratta volentieri. I cinque giorni che mancano con i dieci chilometri da fare oggi. Va bene. E qui chiudiamo però Massimo. Posso chiedervi da dove venite? La riccia. No, la monta è felice. Ricordiamo a tutti gli atleti che le strade sono sicure, larghe, ma comunque bisogna prestare attenzione al passaggio dei eventuali veicoli che non rispettano... Da dove viene? A Roma. Apposta a Galatina per correre. Ah, però stava qui. Sto in feria a Torrevato. Mi raccomando. Sto passato. Aspettate. Chiede più dopo? Sì. Speriamo dopo? Sì. A dopo allora. Nonostante basta sempre insieme. Perché non ti fanno partire? Perché non lo sapevo che è cambiato il regolamento, che bisognava... Ah, quindi bisogna essere iscritti, assicurati. Sono mortificatissimo. Perché sennò tu saresti pronto. Prontissimo, non pronto, prontissimo per la mia Galatina. Posso chiedere, anzi possiamo rivelare quanti anni hai? 77. Con una buona saluta. Grazie. A tutti. In questa terza, con le Galatina. Attenzione. Attenzione. Attenzione, va l'estrata. Grazie, grazie. Occhio, occhio. Grazie di no. Bene, parte con oggi dalla tappa di Galatina Salento Tour. Allora, non manchi mai a questo appuntamento, eh? Assolutamente no. Adesso sono nella preparazione del Giro d'Italia, quindi ho fatto già due tappe e sono arrivata a seconda. E oggi è doveroso essere qua. Bene. Buona gara, si dice così? Grazie, buona gara a tutti.